Questa è la seconda lezione della serie British vs. American, dove andremo a vedere alcune differenze fra le due culture anglosassoni. Coraggio! Ci tocca affrontare anche questo argomento, che, ahimè, è molto importante per la corretta comunicazione, la pronuncia. Tanto per intenderci, chiarisco subito, che per semplificare, qui non vengono utilizzati i simboli fonetici, ma una sorta di trascrizione italianizzata. Ecco alcune parole con identico spelling, ma pronuncia differente in inglese britannico e inglese americano. Ora, parola dopo parola, vi reggo entrambe le pronunce a confronto. Advertisement, advertisement. Dynasty, dynasty. Evolution, evolution. Privacy, privacy. Schedule, schedule. Semi, semi. Tomato, tomato. Was, vase. Vitamin, vitamin. Ora, invece, andremo a vedere alcune parole che sono scritte in modo diverso, ma si pronunciano in maniera identica. Vi consiglio di fermare lo schermo per guardare attentamente le differenze. Ci avrete fatto caso. Quando un native speaker, cioè madrelingua, inizia a parlare, sapete subito riconoscere dal suo accent, cioè dalla sua pronuncia, se è American o British, cioè se è americano o britannico. Perché? Perché? Beh, questione di storia e di cambi nella pronuncia. Un tempo l'America era colonizzata dagli inglesi. Quando fu proclamata l'indipendenza, something changed, anche se a cambiare fu maggiormente il British English. Nell'inglese di quei tempi, la R era pronunciata sempre, ovunque si trovasse nella parola. È il cosiddetto inglese erotico. E così è anche oggi nell'attuale American English, nel quale in parole come mother, father o car, la lettera R, viene pronunciata. Alcuni direbbero che viene trascinata. La lingua si arrotola. Gli inglesi di oggi, invece, hanno perso questo suono, facendo diventare la R. Muta. Mother. In mother americano, per esempio, in inglese britannico, si pronuncia. Mother. Mother. Questo accade perché a un certo punto in England... Questo accade perché a un certo punto in England ha preso il sopravvento all'accento del sud del paese, l'inglese non erotico, appunto, associato alle classi alte. Questa tipologia di pronuncia ha preso il nome di Received Pronunciation, Queen's English or BBC English. La Received Pronunciation va intesa come una lingua ufficiale, usata nei notiziari TV, considerata di solito quella di riferimento, con edizione corretta. Negli ultimi anni, però, la BBC ha cominciato ad assumere giornalisti che non hanno un accento neutrale, ma regionale. Questo ha suscitato un certo stupore e qualche polemica, ma la BBC sembra voler continuare su questa strada, anche per apparire più inclusiva alla portata di tutti.